una ricetta in meno di un minuto quella cuciniamo insieme ad andrea uno sgombro al cartoccio con olive cappe di pomodorini un po di profumo un po di vino insomma nulla di complicato ma vi posso garantire che è un secondo al bacio a un in in cucina e viscerando il nostro sgombro io ho trovato dentro lattume e uova sapete che ne ho fatto beh pasentate per le prossime ricette dopodiché ho cominciato a pulire i pomodorini li ottenete a metà ho preso lo sgombro ho messo la carta forno un pomodorini capperi olivette un po di erbette profumate tipo basilico e mentuccia del vino bianco olio e sale infornata a 180 gradi la tempistica varia in base innanzitutto alla pezzatura ma anche come dico sempre ogni forno e tribunale controllate ecco qua lo si può già servire così spacchettando e mettendolo in un bel piatto ampio oppure lo possiamo impiattare sentite che cosa ha detto il mio gatto credo abbia letto beddamage